Musica Cari telespettatori ben ritrovati a Primo Cittadino questa sera ci occuperemo del comune di Cogli al Metauro insieme al suo sindaco Pietro Briganti Buonasera sindaco Buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori di FanoTV e se mi consente ai miei concittadini di Cogli al Metauro Vi ricordo che potrete intervenire in diretta telefonando lo 0721 86 14 33 potete però anche inviarci un breve messaggio di testo su whatsapp Sindaco abbiamo tanti argomenti di cui parlare questa sera direi di partire dal nuovo svincolo perché è un'opera veramente tanto attesa da tutti gli abitanti di Cogli al Metauro non solo anche perché riuscirà a garantire più sicurezza e ulteriori prospettive di sviluppo per le aree industriali e commerciali dell'intera vallata del Metauro Effettivamente parliamo di un'opera oserei dire storica come si può definire che da più di 20 anni quasi 25 anni se ne attendeva la realizzazione nel nostro territorio sia per salvaguardare quello che è l'aspetto del traffico veicolare all'interno del centro di Calcinelli con sicuramente un ristoro per la viabilità un miglioramento di quello che è l'inquinamento un miglioramento di quella che è la sicurezza perché l'attuale uscita di Calcinelli troppo spesso risulta congestionata dalle macchine che arrivano fin dentro alla superstrada con un rischio importante ma oltre a questo ci tengo a sottolineare un aspetto ancora più importante che è quello di poter dare un rilancio a quella che è tutta una zona industriale molto estesa nel nostro territorio che può essere anche mettersi in collegamento anche con la zona industriale della nostra confinante e degli amici di Cartoceto che per troppo tempo è rimasta al palo anche perché gravava sui lottizzanti parte di realizzazione di quest'opera quest'opera che grazie a tutti quelli che sono all'interno della mia amministrazione insieme in particolare all'assessore Tadei, vice sindaco Mascarucci abbiamo tessuto da quasi due anni un interessamento della regione di Anas cercando di far capire quali fossero le criticità della viabilità della nostra comunità e hanno ben recepito venendo sul posto e di questo devo ringraziare in particolare tutta la giunta della regione Marchi in particolare poi all'assessore Baldelli perché quotidianamente per diversi giorni si è recato sul posto con noi per rendersi conto di quelle che fossero le criticità questo dicevamo darà grande possibilità di rilancio possibilità di insediamento di attività produttive nel nostro territorio che sappiamo essere il volano per risolvere i problemi e dare ricchezza a un paese perché dare posti di lavoro, avere la possibilità di avere uno stipendio dà sicuramente un circuito positivo a tutte le attività commerciali che si trovano nel territorio siamo a bellietti, ah volevo specificare un aspetto perché non è ancora ben chiaro da parte di tanti cittadini che me lo chiedono perché nel corso di questi anni si sono cercate anche delle soluzioni alternative vista la difficoltà di realizzare questo svincolo che ripeto da quasi più di vent'anni che è rimasto inespresso, il fatto che si tratta di uno svincolo a tutti gli effetti quindi non come una soluzione che in maniera geniale aveva trovato l'allora sindaco Stefano Aguzzi di solo in una parte direzionale quindi da Fano verso Fossumbroni creare un'uscita e un'ingresso ma uno svincolo a tutti gli effetti quindi su entrambi i sensi di circolazione che quindi darà la possibilità sia in direzione Fano che in direzione Fossumbroni di poter uscire e rientrare in questa zona decongestionando tantissimo il traffico dal centro cittadino di Calcinelli Quando inizieranno i lavori? I lavori in base al cronoprogramma che si è data all'ANAS dipendono sicuramente poi dall'aspetto dell'ottenimento della via da parte del Ministero ma secondo le loro intenzioni dovrebbero partire nella prossima primavera io credo che possano riuscire in questa impresa anche perché ci siamo sentiti con una frequenza assidua con il responsabile ANAS della Regione Marche c'è la volontà di partire in tempi brevi hanno già individuato a chi poter affidare l'incarico della progettazione definitiva esecutiva per poi poter procedere alla realizzazione dell'opera Opera che secondo ANAS dovrebbe richiedere circa un anno di tempo per la realizzazione verrà realizzato contrariamente a un primo bossa di progetto che era stata formulata intorno al 2000-2001 in cemento in realtà verrà un unico impalcato in acciaio che non creerà neanche disagio alla circolazione della superstrada in quanto si prevede di poterlo posizionare con il blocco del traffico in una sola notte e quindi questo sicuramente darà una grossa possibilità di decongestionare il traffico durante la realizzazione dei lavori e dicono spero che si faccia anche la rotatoria in via Flaminia per via dei Laghi lei cosa dice? la rotatoria in via dei Laghi al di là del fatto che è una rotatoria che insiste su una strada provinciale rientra sicuramente nel piano regolatore e ci aspettiamo che con la partenza di questa zona Laghi questa zona industriale che poi la strada è quella che condurrà verso questo nuovo svincolo consentirà poi anche la realizzazione e necessiterà la realizzazione in concreto di questa rotatoria lungo la Flaminia tra poco torneremo a leggere i tanti messaggi che ci stanno arrivando volevo parlare però con lei prima del porta a porta la raccolta di rifiuti che partirà il prossimo 3 luglio ne abbiamo parlato anche nel corso del telegiornale il presidente di Aset Paolo Reginelli spiegava appunto che la richiesta è arrivata dal Comune come mai questa scelta e che cosa succederà nei prossimi mesi? la scelta è una scelta dettata dalla volontà di migliorare quello che è la qualità della raccolta una forte sensibilizzazione ed educazione verso una raccolta differenziata per migliorare gli standard di raccolta il conferimento di quelle che sono le frazioni che possono essere riciclate rispetto a quello che è l'indifferenziato che spesso va a alimentare le discariche mentre potrebbe essere riutilizzato e riciclato quindi è un circolo virtuoso di riutilizzo di questi scarti tra l'altro approfitto anche per dire che sempre con Marche Multiservizi è in progetto, in procinto anche l'apertura del centro di riuso e si prevede che faremo l'inaugurazione dopo questa prima fase molto complessa sia per noi che per Aset di introduzione di questo porta a porta spinto su tutto il comune che ricordo essere di 12.000 abitanti con un territorio sicuramente vasto perché abbiamo 46 km2 e garantiranno il porta a porta anche nelle cosiddette case sparse quindi quelle che si trovano nei centri più urbanizzati e partirà quindi anche questo centro di riuso proprio volto a far sì che ci sia un'attenzione verso quello che viene buttato nei nostri cestini troppo spesso le nostre isole ecologiche sono oggetto di un lascito di immondizia scriteriato da parte di chiunque in molte di queste situazioni tra l'altro non sono nemmeno cittadini di Coglian Metauro ma sono cittadini di altre località che magari preferiscono passare lì e lasciare queste immondizie ma grazie alla presenza degli ispettori ecologici e di recente anche la scorsa settimana grazie al nostro intervento alla polizia locale purtroppo l'unico deterrente sono le multe mi piacerebbe che ci fosse una maggior consapevolezza del fatto che sporcare, lasciare immondizie in giro comporta ulteriori costi perché noi dovremmo chiamare poi ASET per venire a ripulire queste isole ecologiche e questo va a incidere sulla Tari sulla Tari dei nostri concittadini sulla Tari di tutti noi, di chi si comporta correttamente quindi abbiamo optato per questa scelta di avere questa raccolta del porta-portaspinto su tutto il comune di Coglian Metauro anche perché l'esperienza vissuta dai cittadini i nostri concittadini della ex municipalità di Montemaggiore hanno trovato estremo sollievo dall'utilizzo di questo tipo di raccolta e poi altre informazioni insomma le troverete per quanto riguarda il kit che potete ritirare anche nella nostra pagina Facebook con tutti i dettagli che illustrava questa sera Reginelli per quanto riguarda la Tari invece sono previste delle agevolazioni? Allora per quanto riguarda la Tari prima ancora do una comunicazione di servizio anche sul sito istituzionale del nostro comune si può trovare sia il calendario della raccolta sia i giorni in cui ci si può recare in ASE per ritirare questi che sono i kit che viene suddiviso per le tre municipalità in tre periodi differenti nel corso di maggio fino a giugno e anche il fatto che introduciamo e questo ci tengo a dirlo la raccolta di quelli che sono pannolini o pannolini perché ne farà richiesta con un'autocertificazione verrà ritirato con l'indifferenziato ma verrà raddoppiato il giro perché nel periodo in cui si farà la raccolta in una determinata area del nostro comune in quella stessa giornata verranno anche ritirati quelli che sono i secchetti con i pannolini o i pannoloni di chi ha necessità che logicamente dovrà farne richiesta e questa richiesta ha una validità di un anno che dovrà essere rinnovata dicevamo della Tari la tariffa logicamente questo tipo di raccolta ha un incremento del costo che verrà in parte cercato di tenerlo costante rispetto a quello che era precedentemente ma per la Municipalità di Montemaggiore che già aveva questa raccolta porta a porta di fatto verrà meno quello che era lo sconto invece per i cittadini di Sierra Ungarina e di Saltara che avevano questo sconto per il fatto che dovessero conferire i rifiuti presso le isole ecologiche c'era uno sconto del 9% ed entrando a regime questa raccolta dal mese di luglio significa avere un impatto almeno del 5% sulle tariffe Tari tariffe Tari che tra l'altro in questi giorni è uscito un bando sempre da parte del nostro comune per la richiesta del rimbosso Tari per coloro che hanno un determinato livello di sé basso Ok, adesso cominciamo a leggere i vostri messaggi come dicevo sono davvero tanti immagino che anche il regia se non arrivate non arrivate i messaggi perfetto, grazie allora cominciamo da questi quando sarà pronta la scuola elementare di Saltara che è chiusa da 7 anni che lei aveva promesso di riaprire le chiedono Sì, questa è tra virgolette una nota dolente per questa amministrazione in quanto i tempi di realizzazione di questa scuola si sono prolungati in un altro modo ma non per cause imputabili alla nostra amministrazione o ai tecnici dell'amministrazione purtroppo questo cantiere iniziato nel giugno del 2019 ha subito quasi uno stop ralentamento, una fermata a seguito del periodo Covid che tutti conosciamo quindi nel 2020-2021 ma non sono state solo queste le motivazioni del rallentamento di questo cantiere ci sono state inadempienze contrattuali non sanabili che hanno indotto l'amministrazione a fare una risoluzione contrattuale con la ditta che in quel momento aveva l'appalto di quella realizzazione per le opere strutturali per le opere di muratura perché in realtà l'appalto per l'impiantistica non c'è una risoluzione e le ditte continueranno a poter svolgere l'intervento che era previsto dopodiché ci si è dovuti attivare immediatamente su un duplice filone sia per capire se questo incendente di percorso potesse pregiudicare quello che era il contributo da parte del Ministero di circa 997 mila euro che avevamo ottenuto e quindi da una parte interfacciarsi con il Ministero ma proprio in quel periodo il Ministero era carente nell'organico del dirigente deputato a dare questo tipo di risposta e i vari funzionari nessuno di loro si assumeva l'onere di dare questo tipo di risposta sul fatto che venisse riconfermato o meno il finanziamento tant'è che noi abbiamo fatto una richiesta formale nell'aprile del 2022 solo nell'ottobre del 2022 quindi dopo sei mesi c'è stata data risposta dicendo che potevamo procedere comunque a un nuovo bando che avremo temporaneamente perso la parte di ribasso della prima asta che però viste le difficoltà che si erano venute a creare nel tutto il sistema macroeconomico incremento dei prezzi e quant'altro il Ministero avrebbe fatto di tutto per far sì che queste somme potessero tornare nella disposizione del Comune attualmente in via precauzionale non le stiamo considerando però è un aspetto che ha fatto sì che si iluncassero anche i tempi non solo oltre a questo l'incremento dei prezzi generalizzato dovute anche come sappiamo alla guerra in Ucraina all'aumento delle materie prime per contesto macroeconomico ha fatto sì che si dovesse rivedere completamente il valore economico di questa progettazione oltretutto questa progettazione quando si passa da una conclusione anticipata di un'opera fa sì che si debba svolgere un attento lavoro minuzioso per capire quali sono le responsabilità attribuibili a chi avrà svolto il lavoro fino a quel momento da chi dovrà partecipare ad un nuovo bando quindi sono state fatte delle prove sui materiali delle rilevazioni che hanno richiesto un tempo abbastanza prolungato e ora? ora ci siamo nel senso che abbiamo già preallertato la centrale unica di commettenza di Fano che devo ringraziare anzi mi dà l'occasione per poter ringraziare la CUP di Fano in particolare la dottoressa Di Sauro che è la responsabile del settore perché in questo periodo siamo molto attivi e abbiamo avuto diversi diversi bandi da porre in essere e ci hanno supportato in tutto anche in questo abbiamo preavvertito che a breve procederemo alla messa a bando della realizzazione di questa opera perché in questa settimana il tecnico incaricato di realizzare il progetto ha già detto che ci invierà tutto il materiale che poi non so se portarlo in via d'urgenza in giunta o fare un passaggio attraverso il consiglio comunale per poter poi partire con il bando per questa realizzazione perché se riuscissimo a bruciare un po' le tappe potremmo prevedibilmente iniziare dal prossimo anno scolastico quello del 2024 quindi settembre 2024 a riportare i ragazzi nella scuola Dezzi di Saltara Speriamo Sindaco le chiedo veramente un botta e risposta perché penso di avere 40-50 messaggi arrivati per lei Buonasera potremmo avere info sul mattatoio di Saltara? Info sul mattatoio di Saltara il mattatoio di Saltara è un vecchio mattatoio logicamente non inutilizzato per il quale noi abbiamo partecipato ad un bando di rigenerazione urbana insieme ai comuni di Cartoceto e di Monbaroccio attualmente questo bando sono stati i risultati assegnatari delle risorse solo comuni del sud tant'è che il rappresentante De Caro dell'Anci ha fatto un'espressa richiesta al ministero di far sì che questa misura potesse essere estesa anche agli altri comuni del centro nord e quantomeno per far sì che diventi una misura stabile vista la necessità di riqualificare e di mettere a posto delle situazioni di degrado che ci sono sul territorio comunale quindi c'è un progetto c'è un'idea di progetto stiamo cercando di capire di intercettare dei finanziamenti per poter riqualificare quel mattatoio invece quello di Schieppe? invece per quello di Schieppe ci sono notizie estremamente positive perché abbiamo ricevuto circa dieci giorni fa il decreto di assegnazione dei fondi che abbiamo partecipato a un bando regionale per riqualificare quell'immobile e farlo ripartire in tempi abbastanza brevi ricordo che l'anno scorso la cooperativa che operava all'interno di questo mattatoio ha scritto che non era più nelle condizioni di poter gestire questo mattatoio nel giro di brevissimo tempo siamo riusciti ad effettuare un bando che ha vinto la società Bovin Marche cooperativa Bovin Marche e che insieme a noi ha partecipato a questo bando e siamo risultati secondi e terzi adesso non ricordo se è secondi il comune di Colleen Metauro o viceversa Bovin Marche per un importo di circa 400 mila euro per far sì che questo mattatoio che è un mattatoio che non è di interesse comunale ma di interesse comprensoriale perché accoglie tutti quelli che sono gli allevatori nella nostra provincia e c'è una volontà sicuramente di far sì che questo mattatoio vista le dimensioni vista la qualità costruttiva vista l'ubicazione la logistica che ha possa diventare un punto di riferimento per la provincia di Peso Urbino per gli allevatori locali perché parliamo tanto e parliamo sempre di cercare di salvaguardare i prodotti locali il mangiare bene locale poi se non diamo le strutture idonee per far sì che questi allevatori che già sono sono in una situazione di difficoltà visto l'aumentare di quelli che sono i costi di gestione dei loro allevamenti rischierebbero di chiudere impoverendo quella che è la qualità dei nostri travel e dei nostri cibi quindi sono ben contento di poter annunciare che a breve inizieranno questi lavori di riqualificazione di questo mattatoio di schierpe Le chiedono sia per quanto riguarda il piano sfaltature se quest'anno si farà qualcosa e poi gli sfalci perché dicono che ce ne sarebbe bisogno insomma in tutto il territorio comunale Guardi, partiamo dagli sfalci buona parte degli sfalci purtroppo ahimè non sono di competenza del comune ma sono di competenza della provincia di Anas tra l'altro Anas ha iniziato a tagliare il nostro territorio proprio questa mattina quindi gli ingressi delle superstrade ho visto che sono stati tagliati la provincia sappiamo bene che soffre delle carenze di fondi di risorse finanziarie a seguito della riforma che c'è stata tempo fa e quindi solitamente fa un taglio all'anno per quanto riguarda invece il nostro comune devo dire che quest'anno abbiamo anticipato ulteriormente l'inizio del taglio abbiamo iniziato da marzo quindi nei parchi siamo già al secondo taglio la scorsa settimana hanno iniziato anche a tagliare lungo le nostre strade lei deve sapere che noi abbiamo per quanto riguarda i parchi circa un'estensione di 260.000 metri quadrati di parchi che sono come se mettessimo uno di fianco all'altro 36 campi da calcio però non sono 36 campi da calcio in realtà sono tanto spesso piccoli frusti di terreno incastonati all'interno di abitati di conseguenza non è così semplice tagliare nonostante ciò siamo già al secondo taglio hanno iniziato come dicevo anche il taglio delle strade che abbiamo circa 180 km di strade e quindi siamo ritengo a buon punto per carità si può sempre migliorare però devo dire che quest'anno abbiamo anticipato di molto e i risultati secondo me si vendono sul territorio andando a passeggiare in diversi località di come ci sia stata un'attenzione particolare agli sfalci per quanto riguarda le asfaltature invece stiamo programmando un ulteriore piano di asfaltature si è concluso da non da tanto quello che abbiamo iniziato nel 2022 però anche qui a seguito dei numerosi incrementi dei prezzi che ci sono stati ci sono state un po' di problematiche nel senso nonostante avessimo ridotto l'estensione delle strade da realizzare in particolare abbiamo tolto dal piano asfaltature via la barca in quanto visto l'intervento da parte di Marche Multiservizi del raddoppio del potenziamento del depuratore di Calcinelli avrebbe comportato il passaggio di diversi automezzi di un peso rilevante su questa strada l'abbiamo esclusa dal piano dell'asfaltature pur escludendo questa strada le risorse non sono state sufficienti per completare tutte quelle che erano in programma di conseguenza stanno facendo i conteggi e adesso con l'avanzo di bilancio avendo chiuso il bilancio destineremo parte di queste risorse alla conclusione di quel piano di asfaltature e a programmare il prossimo piano di asfaltature che in bilancio prevediamo in 400 mila euro Parco via Italo Svevo scivolo rotto e altalena dei piccini mancante Parco Italo Svevo in realtà credo che sia una segnalazione forse ormai vecchia arrivata questa sera questa sera però in realtà anche qui abbiamo da diverso tempo abbiamo acquisito nuovi giochi per un investimento di circa 30 mila euro da inserire nei parchi e credo mi risulta che questa mattina abbiano iniziato appunto a installarli dopo la scorsa settimana avrei voluto iniziare ma a caso a mal tempo hanno rimandato questa e proprio da via Italo Svevo mi risulta che siano iniziate le installazioni da oggi ci tenevo a proposito di questo raccontare un aneddoto rubo dieci secondi però per segnalare un aspetto che mi ha favorabilmente colpito di un ragazzo di un cittadino della della nostra comunità della municipalità di Montemaggiore che mi ha chiesto un appuntamento accompagnato dalla mamma mi si è seduto con tanta educazione e ha rivendicato determinati giochi in un parco di Villanova nel parco donatore di sangue in quanto a seguito di un'accaduta di un'altalena veniva a meno quel gioco e volevo appunto dire a questo ragazzo che si chiama Tancredi mi piace volerlo citare proprio per l'educazione la correttezza e la precisione con cui si è seduto dandovi anche dei consigli su quelli che potessero essere gli interventi in quel parco consigli che abbiamo cercato di cogliere e posso dire oggi a questo nostro concittadino che anche in questo caso la promessa viene mantenuta perché a breve verrà installata quest'altalena anche in questo parco una bella notizia allora tra poco dobbiamo andare in pubblicità quindi le chiedo di essere brevissimo le chiedono se quando verranno ripristinati i dossi in via caduti della libertà visto che le auto in uscita dalla superstrada ma anche in senso opposto circolano a forte velocità e poi il ponte pedonale sulla statale perché insomma è pericoloso dicono non aspettiamo che ci esca il morto quindi da dove cominciamo il ponte pedonale o i dossi in via caduti della libertà iniziamo dal ponte pedonale credo che si riferiscano al ponte pedonale Ponte Metauro oppure il ponte di Tavernelle in Rio Barzotto io parlerò magari di tutti e due quindi do un'intuizione di entrambe per quanto riguarda il ponte pedonale di Tavernelle che avevamo chiuso credo nel giugno del 2021 credo perché l'impalcato si era ammalorato e a seguito gli interventi per illustrazione si era reso impossibile metterlo a posto perché non c'erano le condizioni per poterlo fare si è partiti con una progettazione per la realizzazione di un nuovo ponte abbiamo cercato come siamo soliti operare di cercare di intercettare dei fondi per far sì che questa spesa potesse avvenire anche con il contributo o statale o regionale o comunitario quando ci siamo resi conto che partecipando a questo bando nonostante l'impegno e nonostante qui sotto io oggi mi sono portato una scheda numerosi incentivi e contributi che abbiamo ottenuto in quel caso non ci siamo riusciti ma vista la necessità di collegamento nella zona di Tavernelle abbiamo messo soldi del bilancio comunale per la realizzazione di quest'opera che è stata bandita alla fine del 2022 sono state assegnate è stata identificata la ditta che posso anche dire la ditta Moviter e il 9 giugno 9 maggio quindi fra qualche giorno fra un paio di giorni anzi domani verrà sottoscritto il contratto con la ditta Moviter che quindi potrà partire per realizzare quest'opera un'opera di 300.000 euro e sono previsti da contratto 120 giorni per la realizzazione di questo intervento per quanto riguarda invece il ponte sullo fiume Metauro c'è una bellissima notizia recente anche questa in quanto sappiamo che il passaggio viene interdetto ai pedoni per la pericolosità delle balaustre che ci sono sul ponte Metauro la provincia ha ottenuto un finanziamento da 400.000 euro per la messa in sicurezza di questo ponte e ci aveva presentato tempo fa un progetto che però precludeva il passaggio pedonale ci siamo attivati abbiamo avuto diversi incontri con la provincia e abbiamo cercato di sensibilizzarli sulla necessità invece di di non impedire il passaggio pedonale e qualche giorno fa l'ingegner l'architetto Gili della provincia che ringrazio insieme anche al responsabile ingegnere Primavera ci hanno dato la notizia che hanno trovato una soluzione progettuale dopo diverso tempo che ci stavamo ragionando che consentirà di avere almeno 90 centimetri io sto spingendo per ne averne di più sia 100 anche 110 se fosse possibile dal punto di vista tecnico anche con una disponibilità del comune di compartecipare eventualmente la spesa per far sì che non venga percluso il passaggio e quindi il taglio tra la località di Calcinelli e di Tavernelle di due località dello stesso comune e ci hanno garantito la possibilità che questo si possa fare sui dossi rispondiamo subito dopo la pubblicità perché è tassativa tra poco Siamo di nuovo in diretta dunque Sindaco dovevamo dare la risposta a questo cittadino per quanto riguarda i dossi in via caduti della libertà se possono essere ripristinati Per quanto riguarda i dossi in via caduti della libertà abbiamo richieste che possono essere ripristinati e richieste che non li vogliono perché poi i dossi quando vengono attraversati hanno un rumore che spesso non fa dormire le persone di conseguenza c'è una diatriba non mi viene rappresentata una grossa pericolosità in questa strada ma come ho già detto perché questa segnalazione mi era già arrivata ho chiesto alla nostra polizia locale di fare dei sopralluoghi e di fare delle rilevazioni sul traffico se ciò dovesse evidenziare una necessità una pericolosità della strada siamo i primi a volerli installare a prescindere poi dal lamentile di chi si troverà con la propria casa di fronte a questi dossi da novembre gli abitanti di via delle rose a saltara chiedono un lampione a marzo avevano inoltrato una raccomandata e vorrebbero una risposta certa allora per quanto riguarda il piano della realizzazione delle illuminazioni ci sono diversi luoghi e diverse strade che necessitano di questa dell'introduzione di quella che è l'illuminazione pubblica abbiamo diverse segnalazioni sapevo di questa segnalazione cercheremo di capire quando ci saranno le condizioni per poter realizzare questo tipo di intervento questo non è non voler rispondere ma è cercare di mettere insieme una serie di situazioni e circostanze in modo tale che si possa fare un bando per la realizzazione anche della linea perché dove manca l'illuminazione pubblica spesso manca la linea quindi non è solo mettere un palo di illuminazione per cercare di far sì come in via dei Pini o altre vie in via Flaminia che sono zone molto pericolose di mettere un piano progettuale in terra questo tipo di investimento Torniamo un attimo a parlare del ricorso contro la sentenza del TAR che nel giugno 2017 rispinse l'iniziativa antifusione dei cittadini in questo caso parliamo di Montemaggiore che non si dà pace il 27 aprile era fissata il Consiglio di Stato a Roma appunto l'udienza di discussione che cosa è emerso è stata è emerso che il nostro legale del Comune in quanto il Comune deve tutelare quella che è l'integrità della fusione ha partecipato a questa udienza e in questa circostanza che è stata il 27 aprile scorso in questa circostanza insomma il Consiglio di Stato si è preso ulteriori 30 35 giorni di tempo per poter emettere un'eventuale sentenza ed eventualmente che cosa potrebbe succedere in questo momento non glielo so dire è difficile da prevedere quelle che possono essere le conseguenze certo è che se dovesse esserci un respingimento di quella che è la richiesta di Montemaggiore esiste le cose andranno avanti così come sono e quindi questa è forse la strada più certa di cui si conosce è facilmente prevedibile la conseguenza di questa sentenza quello ci dovesse essere invece una sentenza che accoglie le istanze del comitato di Montemaggiore esiste io non oso immaginarmi quelli che possano essere dei scenari sicuramente ci sarà un assolimento suppongo dei comuni e credo che si andrà nuovamente a votazioni non so se solo per Montemaggiore rimarranno fuse Serungarina e Saltara o verrà messo in discussione tutto comunque sicuramente ci sarà credo l'intervento di un commissario ci hanno inviato un messaggio che riguarda la palestra Cianca Merla insomma allorata da anni servirebbe un piano di manutenzione in realtà qual è il progetto per questa palestra? con la palestra Cianca Merla siamo a buon punto nel senso che è un percorso iniziato nel 2020 quando parliamo di pubblica amministrazione ahimè quindi è bene forse sottolinearlo i tempi sono estremamente lunghi non è come nel privato quindi parliamo di una progettazione iniziamo addirittura nel 2020 e abbiamo partecipato a un bando bando sport e periferie per il quale abbiamo ottenuto un contributo di 700 mila euro nel dicembre scorso è stato fatto un bando per appaltare i lavori abbiamo identificato la ditta e abbiamo chiesto in accordo con questa ditta abbiamo concordato di iniziare i lavori nel giugno prossimo quindi fra un mese proprio per dare la possibilità siccome questa struttura è utilizzata sia da associazioni sportive che dalla scuola di dare possibilità di terminare il campionato di terminare l'anno scolastico di dare la possibilità sia alle associazioni sportive sia alla scuola di trovare quindi a noi come comune di trovare delle soluzioni alternative perché questa struttura per circa sei mesi da contratto sono previsti sei mesi per la sua realizzazione verrà completamente rifatta viene fatta l'impiantistica il fondo viene fatta l'efficientamento sismico efficientemente energetico anzi di più questa struttura diventerà un impianto strategico di livello 4 ovvero di accoglienza in caso di calamità naturale dei cittadini di Poi e a Metà quindi è un intervento importante perché parliamo di un investimento di 1.750.000 euro circa per i quali ripeto abbiamo ottenuto un contributo di 700.000 euro al quale potremo sommare un contributo a parte del GSE per l'efficientamento energetico di circa 120-150.000 euro Passiamo invece alla scuola dell'infanzia Rodari a Calcinelli in questo caso che tipo di intervento verrà eseguito? Anche per questa scuola siamo nella stessa deadline della palestra Cianca Merla qui oltre alla scuola Rodari ricordiamo anche che c'è un asilo nido e anche in questo caso in accordo con la ditta che si è giudicata i lavori abbiamo chiesto di iniziare i lavori dal giugno prossimo quindi tra un mese per anche qui per dare la possibilità di concludere quello che è l'anno scolastico in questo caso ci sarà un intervento di efficientamento energetico ed adeguamento sismico per un importo di circa 700.000 euro per i quali anche qui siamo stati non noi i nostri tecnici sono stati bravi ad intercettare un contributo di circa 600.000 euro e in questo caso questi lavori hanno comportato anche un adeguamento un miglioramento di una sede che è un'ex scuola elementare di Tavernelle per accogliere temporaneamente i ragazzi della Rodaris e dell'asilo nido che della scuola materna per il periodo necessario a svolgere i lavori anche in questo caso abbiamo fatto un investimento di circa 70-80.000 euro perché poi questa struttura può essere utilizzata domani anche per le associazioni e quindi abbiamo fatto anche l'impiantistica a nuovo anche se non era necessario le chiedono anche il museo del Bali insomma dicono è un posto abbandonato a se stesso anche qui c'è un progetto importante il museo del Bali non è abbandonato a se stesso non mi risulta che sia abbandonato a se stesso anche perché anche perché insomma è abbastanza recente la notizia che è stato è stato riconosciuto tra i primi quattro musei scientifici di italiani quindi dopo credo Milano c'era Firenze e Napoli tant'è che il ministero ha riconosciuto un contributo maggiore rispetto a quello che riceveva negli scorsi anni parliamo di circa 200.000 euro e noi come amministrazione ci siamo sempre interessati alle sorti di questo museo che è un fiore all'occhiello perché ricordiamo che prima della pandemia veniva frequentato da circa da più di 50.000 visitatori all'anno nel periodo nel ponte di Pasqua ci sono stati qualcosa come 2000 presenze e quindi dopo questo periodo di difficoltà di fatica nonostante il grosso impegno anzi il merito che bisogna dare al presidente della fondazione del museo del Bali stanno riuscendo a risalire la china anche il comune ha contribuito con delle proprie risorse per cercare di dare un supporto al museo del Bali tra l'altro non mi risulta che sia così abbandonata anche perché è una delle prime strade l'accesso al Bali che abbiamo tagliato il verde il verde pubblico e tra l'altro proprio in forza come dicevamo di questa di questo posizionamento tra i primi musei scientifici a livello a livello nazionale il museo potrà usufruire di un'ingente somma di denaro per migliorare quella che è la struttura la struttura che tra l'altro si è arricchita anche di un'ulteriore ala che era tempo fa veniva utilizzata come punto di ricezione turistica come punto ricettivo che verrà utilizzata per ampliare quelle che sono le offerte formative del museo velocemente le leggo due messaggi illuminazione pubblica dal ristorante posta vecchia al remercato in via Flaminia si può fare qualcosa perché pedoni di notte sono anche indisciplinati e non si vedono è quello che appunto dicevo tra le varie situazioni di pericolosità che citavo prima c'era proprio questo tratto della via Flaminia proprio dal tratto che congiunge verso il nostro vicino comune di Cartoceto che è un tratto pericoloso tra l'altro una strada pericolosa come la Flaminia di conseguenza è una di quelle zone per le quali ci siamo attenzionati per realizzare una pubblica illuminazione e poi un'altra segnalazione segnalo la pericolosità di certe piante una in particolare gigantesca con le radici esterne che si trova nella strada che dai Gambarelli conduce a Postavecchia proprio nella discesa invece sui lavatoi storici ci sono novità? Per quanto riguarda i lavatoi storici noi abbiamo partecipato a un bando del Pilgal misura 7-6 mentre quello relativo ai percorsi turistici è iniziato qualche giorno fa che prevede tra l'altro un bel progetto perché prevede la riqualificazione di alcuni percorsi a partire da Montemaggiore anche un centro l'ex centro civico di Montemaggiore dei percorsi intorno alle mura con anche delle panchine e un retroilluminate insomma di un gran effetto di riqualificazione che poi prevedono anche la realizzazione di un'area sosta camper a Saltara e dei percorsi che conducono fino al Museo del Bali è partito in quest'altro caso pur si è stato fatto nello stesso periodo ci sono delle problematiche con la ditta che si è giudicata ai lavori abbiamo fatto delle diffide ad iniziare i lavori non andremo alla conclusione del contratto quindi dovremo slittare la gradatoria per identificare il secondo che si è aggiudicato i lavori per iniziare i lavori di questi lavatoi che sono i lavatoi di Saltara di Sorungarina e di Pozzuolo e oltre a questi c'è anche la riqualificazione di quello che era l'ex centro del matatoio di Sorungarina quindi lì dovremo aspettare un po' di più rispetto a quest'altra situazione proprio perché dobbiamo vedere e identificare quella che è la ditta che svolgerà i lavori abbiamo due minuti per parlare di eventi intanto come è andata la fiera? la fiera è andata molto bene ieri era una giornata estiva a tutti gli effetti anzi con temperature forse anche troppo troppo alte che però hanno richiamato tanta gente c'erano circa 120 espositori è stata una bella giornata una giornata ricca di persone che hanno visitato il nostro territorio devo ringraziare anche in questo l'ufficio tecnico tutti i ragazzi dell'ufficio tecnico che hanno consentito di mettere a nuovo tutto il centro e di renderlo accogliente e di sopperire a delle cose che sono avvenute dell'ultimo minuto dei disguidi dell'ultimo minuto che sono stati superati in maniera brillante nessuno si è accorto di nulla di conseguenza rendo omaggio a loro per il grande lavoro che hanno svolto e li ringrazio la prossima fiera? la prossima fiera è la fiera del 2 giugno la fiera di San Cipriano a Tavernelle e spero credo che sarete presenti anche voi per dare risalto perché siete una televisione del nostro territorio e quindi dare visibilità a questi eventi e i giorni successivi il 3 e 4 di giugno sarà realizzata invece la festa di primavera che purtroppo per motivi di maltempo non abbiamo potuto realizzare nella data che era stata prevista e quindi avremo un tre giorni di eventi sul nostro territorio andiamo avanti anche con il trekking credo che abbiamo la locandina alla scoperta di Cora del Metauro abbiamo avanti con questo trekking perché di anno in anno si sta arricchendo sempre di più persone sono percorsi da un certo punto di vista affascinanti perché vanno a riscoprire magari delle aree sconosciute del nostro territorio o mettono in mostra delle attività artigianali che si sono perse nel corso degli anni quindi siamo molto contenti di questa iniziativa e invitiamo a partecipare numerosi perché si fanno veramente delle bellissime passeggiate Domenica prossima un'altra festa che invece riguarda i cento anni della parrocchia Già i cento anni della parrocchia Santa Croce di Calcinelli un grande evento al quale la nostra amministrazione ha cercato di far sì che non venisse meno il sostegno per la realizzazione di un evento che al di là dell'evento in sé racchiude un'importanza fondamentale perché l'opera che si sta svolgendo sul territorio da parte della giovanissima Don Matteo Pucci dà un grande supporto a quello che è il lavoro nel sociale quindi anche accogliendo tanti ragazzi coinvolgendo tanti ragazzi che piuttosto che andare in giro per le strade stanno dedicando a un'opera di volontariato tra l'altro sono circa ottantina i ragazzi che quel giorno daranno la propria disponibilità di volontari per servire anche il pasto in questa giornata dove credo mi dicono che già ci sono circa 800 iscritti ma non è solo l'aspetto conviviale ripeto quanto l'aspetto sociale che sta svolgendo in maniera egregia sul territorio con anche un dopo scuola con un centro estivo con tante iniziative volte a far sì che i nostri ragazzi i nostri giovani possono percorrere delle strade sicure e fuori da tentazioni ci stanno arrivando tanti altri messaggi noi purtroppo dobbiamo chiudere la diretta ma magari io e lei continueremo un attimino a confrontarci anche per non escludere le tante persone che ci hanno inviato i messaggi volevo ringraziare il suo vice Anna Chiara Mascarucci che ci ha fornito anche le fotografie il regia Cristina Guerra e Riccardo Sora e l'informazione torna domani mattina su Fanno TV con la nostra segna stampa e poi la sera alle 20 e 30 con il telegiornale grazie sindaco per essere stato con noi e poi nelle prossime settimane anche all'interno del nostro TG torneremo a parlare di dettagli per quanto riguarda eventi e non solo grazie a voi per l'invito e grazie soprattutto per questa opera che fate sul territorio di conoscenza del nostro territorio siete nella nostra vetrina e quindi con molto piacere sono qui questa sera e mi dispiace che il tempo sia già finito purtroppo sì grazie a voi comunque per la collaborazione a tutti i telespettatori per averci seguito buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti